La riforma Fornero è stata una beffa non solo per gli esodati. C'era chi era già pronto ad andare in pensione e invece è andato in disoccupazione e alla fine dovrà aspettare altri tre anni in un limbo, senza alcuna forma di sostegno a reddito, completamente abbandonato dallo Stato. In tanti pagano il prezzo di certe riforme fatte sulla pelle della gente in piena crisi economica. Franco Renna è una delle vittime di queste scelte. Spostando la pensione in avanti nessuno si è chiesto che fine avrebbero fatto i lavoratori delle piccole imprese private in crisi, che arrivati all'età della pensione sono finiti in mezzo a una strada. Franco dovrà aspettare tre anni ancora, senza alcun sussidio, con una famiglia da mantenere e un figlio disoccupato. A 63 anni non è facile perché non ti vuole nessuno, nemmeno se hai 30 anni di esperienza come lui e tanti corsi di formazione alle spalle. Franco è un tecnico specializzato in attrezzature odontoiatriche e odontotecniche, ma c'è poco lavoro per i ventenni, figuriamoci per chi ha superato i 60 anni. Ho lavorato praticamente per un'azienda nel settore odontoiatrico, odontotecnico per 30 anni. Da luglio 2012 mi hanno licenziato e dopo un anno di disoccupazione praticamente sono rimasto in mezzo a una strada, chiaramente. Sono andato a chiedere all'ufficio di collocamento e non mi hanno dato nessuna risposta. Come faccio io ad andare avanti per tre anni alti se non trovo una soluzione economica decente da portare avanti la mia famiglia in qualche modo. Ho due figli, Stefano è pure disoccupato, si rivolgono a me giustamente per un'aiuto ma io come faccio a sistemare questa cosa? Ho provato a chiedere pure alla concorrenza ma mi hanno chiuso le porte, sia voi per l'età e voi per, diciamo così, che c'è un po' di crisi e non mi hanno dato la possibilità almeno di fare una prova in qualche modo, di iniziare a provare. Io da quattro giorni che sto facendo uno sciopero della fame, guarda, sinceramente col cuore in mano e se non trovo una soluzione da qualche giorno non so più a che santo rivolgermi. Sono arrivato in una condizione proprio di una disperazione enorme. Non avrebbe mai pensato quest'uomo, classe 51, di dover rivolgere un appello alle istituzioni nel 2015 per poter lavorare altri tre anni. Solo dopo questo periodo potrà percepire la meritata pensione. La sua esperienza è simile a quella di molti altri salentini che giunti vicino al traguardo dopo anni di lavoro sono stati beffati dalla crisi e dallo Stato. Io faccio un appello al direttore generale dell'Aso di Lecce se ha la possibilità tramite qualche impresa, non lo so, qualcuno che fa la manutenzione all'interno, che mi dia la possibilità anche temporaneamente di risolvere in qualche modo la situazione economica mia perché non è possibile, insomma, io non è possibile di poter stare così senza nessuna risposta da parte di qualche cosa, di qualche tutto. Io sto veramente in condizioni brutte perché non so che decisione dovrei prendere. Grazie. 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 Grazie mille.